F5, no, che cazzo era F4 per... ah, perchè sto PC fa come gli pare, giusto Oh ecco, per far vedere che sto in live Perfetto, raga, scusate non sto a leggere la chat del niente, perdonatemi ragazzi Odio quando mi succede E... ecco qui Rocket League, come promesso E' il motivo per cui tra l'altro ho iniziato a streamare Insomma Allora, aspettate un secondo No, non mi interessa che mi contatti questa persona Ah, non si vede comunque Giustamente non si vede, perchè se no non metto la cosa Che voi potete vedere Aspettate Olè Mo si dovrebbe vedere, no? Vado a farlo, ok, bella bella Chico Ciao Papino, ciao Zanzi, palpeno, chez Non so pronunciare quel nome Aspetta che devo attivare pure il bot a bere che niente Oggi mi sono scordato pure la testa Oggi mi sono scordato Sono molto molto in orario Bella Francilbro, bella Ciccio Game Prime Moments Bella a tutti, regà Bella Gabrielle da Twitch Non mi ricordo su quale account tu eri connesso Su TikTok, ti dico la verità Bella a tutti, regazzola Aspettate che metto il telefono di qua Così ci stiamo E... E c'ho la chat tutte e due da qua, perchè se no veramente è un casino Forza Rennes, lol Allora Mi puoi inviare la richiesta? No Tanto noi ci pensiamo quando farò la live da 3.000 Quando lo saremo la live da 3.000 follower Perchè ci stiamo praticamente Allora andiamo in casuale No aspetta, prima è un allenamento Per casuale Oggi rank ed è per forza Comunque regà Sono in procinto a registrare un episodio per YouTube Su Fortnite Quindi Ho già registrato il video Però purtroppo Regà Allora ho fatto una partita della Madonna 14 kill L'unico problema è che C'è la registrazione è un po' puttana Ciao Patino Ecco ora si sente Ho trovato il mio Ronaldinho 95 Secondo me Elegante, freddo e perpendicolare domani Cioè non lo so Te lo dico così tanto Così tanto perdito Poi ho lasciato il mio iscritto e ho detto che iniziamo alle 9 Solo che poi Luzerano ha scritto Ho trovato Ronaldinho 95 Ah va bene Dopo te lo faccio vedere il negozio Anzi vediamola adesso Tu riesceva in auto Uno mi ha scritto in privato Dove sta sempre Elegi Usi Lunga R ha scritto Papino una cosa Dimmi Però non mi chiama così Ciccio Prime G. Gashad Ha scritto Mi sono preso Ricard 89 Si dice Ricard Si dice Richard Questo qua è lo shop normale Vedi che sta la Fennec Vabbè Io non c'ho i sordi Quindi va bene così Allora Grazie mille della condivisione patati Mi raccomando spavate un po' i like a questa live Allora Stiamo un attimo vedendo Elegi Usi Lunga R Ha scritto una mamma Fast and Furious Che ne so Per senato che lo si Ha scritto Io lo chiamo Ricky no No Eh meglio così Meglio così Questa è la roba Mandalorian Quanta roba c'è sta Oh la Fennec Malanderorian Scusa Tutto lo paghi 5 No no È la skin Lunga R ha scritto Sei mio padre No Questa invece ci Ah perché Ma io comunque me la compiare adesso Tipo la skin è bellissima Cazzo Cioè Articolo gratuito Che io non lo credo perché Non lo posso riscuotere Ah lo posso Sì Ok l'ho riscosso Ok L'altra volta non mi ha fatto riscuotere Sta roba che è un po' inutile Pacchetto stagione 13 La Masasuna che hai già c'ho Ha scritto Tosco secondo te giocheremo mai insieme Vabbè calcola che L U si lunga R Ha scritto Ah 20 euro Quello di parte Vaffanculo Sei mio padre So C'è la Nissan Si fa scioppare Eh sì In teoria c'è la Nissan Ma l'ha scritto Prima il mio scritto Che oggi c'è stava la Nissan Solo che io non Regà Non ci spendo soldi su sto gioco Cioè Io giro con l'Octame Fino alla fine della mia carriera Su Finché non finina sto gioco Guarda Tiare che ha beccato per sto colore Si va a fare una bella casuale Signori Let's Go Ski Ma Signor Gabriel Si vede bene sul canale viola? Si vede bene? O C'è qualche problemino? C'è qualche problemino? Allora No Eh un po' Un po' Da fast Si un po' fa una merda Però Devo rialzare i carri Chico vai Non sono Non sono No 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 Ma che Ma il che Dove essere bannato Il canale viola No Oddio 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 Eh regà Il lag è proprio del gioco Non è che ha laggato la lag Figa Oddio Non c'è Oh no Fino al boost Regà Non ci credo Non ci credo Sto pazzia Sto pazzia Ti posso Ti posso consigliare Cosa Spero non ho letto Su chiamare Tacos No Mi ho chiamato la rossa No Eh beh Io ti banno poi Cioè Non me ne rega niente Ti prendi il volo E basta Intanto sto giocando Senza guardare Per leggervi Pam Vabbè Era un po' La merda Essenzialmente Però Senza boost Qualcosa di carino È uscito Dai Attenzione Parte Ti prego Chiudilo Bravissimo Con un giudo Il mio compagno Alla Matteo Guindosi Contro il Bayer Monaco Più o meno Come l'avevo saltato Regà Messi Pre moments No Eh Vatta la cagà Dai Il mio compagno Uediz Cioè Ma dov'è Ti è Beccato il suo tocco Parti in velocità Non parto niente Oddio De pre Perfetto Bella Benvenuto Cuore Bianco Nero Blu Non mi ricordo il tuo nome Mi dispiace Però Mi ricordo il tuo account No Non ho fatto il flick in avanti Che schifo Ma ho fatto il doppio salto Non mi hanno dato un flick in avanti Perché Ah sei fede Ok Diami fede Ed Ti dico Che cazzo Dove stare a scrivere Raga Possiamo Possiamo una mano destra Revial Una mano destra Ecco la Revial Le mie mani dorate Ecco Le mani dorate Ah 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 Ecco No Poi Guarda che pipponi Questi Porco C'è Poco a portavola Segnato Ah si Ui Ah 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 Le mani di S.B.O Eh Si Essenzialmente Po' si Abbiamo preso Golgici E godo Eh Quella Gigi 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 Si dopo la facciamo la rank Ti banno comunque poi Facciamo rank No non mi hanno mai derubato Questa Meno male Cioè Ringrazio Dio Che nessuno mi ha mai voluto derubare Anche perché sono Gigachad Insomma Come deve Poi sanno che vanno contro tutti i miei iscritti C'è E' così Vero ragazzi Ha scritto Non puoi bannarmi Ah Sei proprio immortale Vabbè Affanculo Ho fatto troppi dici passaggi Nella loro vita Mi dispiace Ommai ragazzi Solamente a pampà Cioè Mi frega niente Di giocare Pam Questo è praticamente gol Mi dispiace Mi dispiace È comunista No eh Raga ma Troppe persone L'ho visto quel video Troppe Troppe Su youtube short Continua Andiamo ancora nei per te Io mi trovo la mattina Quei messaggi Della gente Questo mi ha un po' stuprato Cioè Dopo questa posso andare a dormire Hai le mani di MR Beast Di oro Ah di Mr Beast Vabbè Per forza Dai te prego Quitamola La posso abbandonare Ah dai Perfetto Beh ragazzi Prima partita Prima volta Che abbiamo proprio preso Nel culo Incredibile Incredibile Che giocatori ragazzi E ora Sì Non ho capito Al lavoro al comune No ragazzi Comunque non si fa Al lavoro al comune Cioè Non mi pare una bella cosa Cioè Sto tutto meglio giocare Sulla fascia Se poco Lo decide No si scherza Si scherza Ovviamente si scherza Bruno Espo Ha scritto Oggi il prof di Ita Ci ha fatto vedere Il campo di concentramento Stava anche Anna Frank Mi dispiace Che c'è C'è questa cosa Ha scritto Vedi il simbolo Faccio lo stream E per adesso Questo è il mio lavoro Vedi Eh non ho visto Il simbolo Se hai messo Il simbolo Comunista Sei un bastardo Ti banno Comunque Competitiva No Affallò Guarda che stava Gigashad Sempre lui Anna Frank Miglior camper Di tutti Non Non far ridere Una battuta Che non ha senso In questa stream Fuori Fuori La tocca Il tosco Che l'altra volta Ragazzi Comunque fate una bella bet Vedete Allora In questa partita Farò gol Cioè tipo Nell'altra live Una certa Un po' tutti si sono andati Perché comunque era tardi Ma stavamo facendo Ogni partita Diciamo Le bet Tipo Ciccio segnava Oppure io segnavo Bella Chris Prima non è live Tutto a posto Lei come sta? Eh beh Bellissimo il lavoro C'è chi coi follower Quando arrivano 3000 follower Forrò una live speciale Ciccio Prime Gigashad Ha scritto Non fa ridere Sempre il tosco Che ha il sorriso Dopo che il kebab Ti offre il kebab Fic 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 Non l'ha capito Regà Ma non ha capito il fake Regà però Un coglione Comunque stavo Che cazzo stavo a dire Mi ricordo Non mi ricordo più Ragazzi Stavo dicendo qualcosa De importante Però mi sono scordato Vabbè Comunque sappiate Che comunque su youtube Domani dovrebbe uscire Un video su fortnite Ciccio Prime Ciccio Prime Gigashad Ha scritto Come si fa a non capire Il fake Non lo so Frate C'è Sono chiari Come il sole Niente Ma a parte Dei cari o dei cose Sono una pip Che hanno segnato GG Mi dispiace Devo Sì però Figa Ma il terzo Che sta a fa Alla davanti Che sta a fa Dio cristo Ma dov'è Ciccio Prime Gigashad Ha scritto Sono chiari Come chiari Ferragni Che battuta Di merda Che battuta Di merda Oh ecco Il tocchetto Da da parte Ancora Il mio compagno Finalmente I miei compagni Fanno qualcosa Oltre a respirare Maledetti Ci avevo creduto Ci avevo creduto Che dobbiamo fare Dai che l'ho saltato Io ho rubato Il mio bus Attenzione Io Fake Fake Ancora un altro Fake Che giocatore Il sorriso Nike Ma porco Due No Mi dispiace Brosco A parte C'erano troppi Dei mod Cristo Cioè I mod Cioè ogni volta Che metto qualcuno Mod Se ne va via Della live Oggi Arriva uno Francibrome Miracolo Cioè User Da quando Non ho messo Mod Non viene più In live Ciccio Gamer Boh Cioè Non lo vedevo Da un pochetto No vabbè Ultima live Forse c'era Ciccio È l'unico Che forse È rimasto Attivo Attivo Tiè Va trappia Va Attenzione Potrebbe Il tosco Fare qualcosa Interessante La tocca Esalta uno E i miei compagni Ovviamente Dove cazzo Stato Dove cazzo sono I miei compagni Fa niente Tanto ti supporto E seguo Lo stesso PK6 Il migliore Grazie Ti ringrazio Ciccio Prime Gigashad Ha scritto Io sto sempre Tu sai perché Mi segui Perché sei nel prime Anzi perché sei Gigashad Come dice Il bot Però tu sei anche Nel prime Una volta Eri nel prime Questo non si è capito Che cazzo Che stracazzo Deve fare Non si è capito Mi fai i fake Quelli un po' strani Però I fake Perse Il bacino Ma Questo lo odio Senica Come cazzo ti chiami Io ti odio Spero probabilmente Che perdiamo Così scendi Che cazzo ho visto Il mio prime Esce quando lo chiamo Il tuo prime Sarà Sai quando sarà Quando ti abbonerai Sul mio canale Col prime Eh No vabbè Ho orrato troppo Mi cacciano Dalle Attenzione Aspetta Aspetta A Caramessi A Caramessi A Caramessi No niente Mi ha fermato subito Regà C'ho provato a fare An Caramessi Ma non Non è andato Non è Oddio Prova il volo Ma l'altro non segna Regà È impossibile Che segna Infatti Pippa di merda Guarda 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 che tocca Ho fatto Porca Mignota Che cazzata Qua ho fatto la cazzata io Regà Lo ammetto Lo ammetto Scusate No scusate Mi signori Di Robert League No mi sono un attimo Emozionato Quindi ho dovuto Dindopo l'altra voce Perché sennò Non è che non Non mi sa Madonna Eh beh qua Qua volo No sei proprio Una puttana Sei a Cologna E mi ha detto Come cazzo Dei chiami Ecco abbiamo preso Un altro gol Sium On my fellas Come dice Come cazzo Si chiama Bo canale Con padre Figlio e sorella Non mi ricordo Come si chiama Mi fanno un sacco Mamma mia Va bene Vada Dove vai a mangiare Scusa ciccio Ah Mi l'ho scordato Dei metterle come clip Mi l'ho scordato Perfetto So già che clip E metto domani Let's go Ski E' bello Eh regà Oggi ciccio Non ce sta Perché probabilmente Sta lavorando Non so che Che qui ne abbia fatto Ha scritto On my fellas Tutu On my fellas Tutu On my fellas On my fellas Oddio Regà Mi raccomando Spamare i like In questa live Fate qualcosa Insomma C'è No Regà Dai Vabbè In segreto Si Se Se Eh vabbè Ma l'ha pure schivata Sto riccone C'è In segreto Stava a fare Un gol Alla champion 5 Dai vaffanculo Dai E me l'ha parlata così Già prima ho preso traversa Niente Quando si asfiga Si asfiga ragazzi Non c'è niente da fare O metelles Comunque Comunque Regà No dopo che ho perso C'è Sono perso E' colpa mia Chiedo scusa Ciccio Chiedo scusa C'è Chiedo scusa un po' a tutti Chiedo scusa anche i miei iscritti Scusatemi Scusatemi Vi chiedo scusa Regà Scusatemi Veramente C'è Ho fatto una cazzata C'è ora Mi porta avvianti i contenuti belli Però Mi dispiace Regà C'è Faccio le cazze Mi dispiace tantissimo Veramente C'è Non volevo Scusatemi C'è scusatemi tantissimo Regà L'hai preso di sottosuolo Eh Mannaggia la sacra sede Però C'è Capito C'è poi il mio compagno Che cosa voleva fare Voleva rubare Il mio boost C'è Ha scritto sopra il mio nome Letzgoski Voglio dire proprio C'è Capito Letzgoski Sarò Lento C'è Qua Vabbè fratello Mi asco a Regà Non stavo neanche Guardando il gioco Ma che cazzo È successo Ciccio Scusa Ciccio Perdonami Ciccio scusami Per l'altra volta Scusami tantissimo Ha scritto Letzgoski Padre Non stavo guardando il gioco Io ho saltato a caso Non hai capito Che tiro di merda Mamma mia Di fake Non l'hanno capito Un'altra volta Non ho capito il mio fake Incredibile Eh home fls Ciccio prime Gigashad Niente regà Non ce la fanno Ho messo ciccio 1.0 Il ciccio vero Ragazzi Che non commenta Siete che sta Sta lavorando Letzgo Letzgoski Letzgo Letzgoski Ho letto da un altro Ok a quando Becchi Sono anche sul canale viola Quindi se vi va Venite Così c'è stato Il tuo schermo E vaffanculo a questo Allora Ma quel boost Ma sei inutile Sei un pezzo di merda Inutile Sei Basta No regalo A fa coppie Veramente Sono veramente Dei rimasti I miei compagni Ciccio prime Gigashad Ha scritto Andiamo a sciare In inglese Letzgoski Ovviamente Boh Regà diamante Tre questi Dio cristo Ma che cazzo C'è che hanno passato Ciccio prime Gigashad Ha scritto Si è così Miche periferia Meme ha scritto Pittore austriaco Mio figlio Mio padre Mio zì No vaffanculo Non avevo colpito mai il tetto Vabbè L'ho bampato almeno Vabbè È il terzo Si sta guardando la vacanza Si sta guardando la partita Ha scritto P-T-T-O-R-E Non entra regà Non può entrare Non so regà Cosa Periferia Meme ha scritto Giocasco Sta facendo i compiti Beh Come Giocasco Sta facendo i compiti Ma perché È un amico tuo Cioè come fai a conoscerlo A parte che Vai per le live Cioè è diventato Amico tu Dalle live Era già amico tuo Le portavo te Perché non ne so Le vostre lore Mamma regà Ma andate Ma veramente Oh Cristo Dio No basta regà Quitamola Cioè Ma se mette Le mezze se che siete Ciccio prime Gigashad Ha scritto Eleganza libidine Stupendo Fantastico Semplicemente Pittore È uno di questi compagni Di classe Che giochi a calcio E sono sempre In mezzo alle palle Sì Era la base Sì Era anche uno così Non ho detto Questo È che sono un uomo E che ha bisogno Del suo aiuto Per capire Che sono un po' troppo Vabbè Non sto capi Cioè Patrick Ma come cazzo Te ne esci Mi pare Il casomese È un po' rimasto Però Vabbè Si scherza E qua Mi è parte La pubblicità Della live No Fermati live Di merda Comunque ragazzi Qui ci stiamo A due abbonati Grandissimi Io bene Non si ferma Ah ok Sono uscito A fermare Batti le mani Batti le mani Batti le mani Se ti fai La mamma Del tuo migliore amico No Vabbè Si scherza Ragazzi Vabbè Nunca Jack In live Allora Uno è Amico mio Invece L'altro È Oddio Mi sono scordato Come mi sono scordato No Era uno di voi Raga Porco due No Mi sento colpissima Mi sento colpissima Raga Non c'è Credo Oddio Eh vabbè Non mi ricordo Il nome dell'utente Solamente se lo vedo In chat su Bella Giazzucca Bello in live Sì Mi sembra giusta Mi sembra giustissimo Morti di fame Con i morti di fame Capito Invece I ricchi come me Non vanno a colle ferro Questo dice addirittura Alla tua sinistra Vai Vaffanculo va Mi rubo Il busto all'ultimo Tocco Oddio Parte il contropiede Il tosco Il tosco Il tosco No Che merdata Tocco Alle nazionali Di pallavolo Ma riga Ma oggi sono Povente nel prime Che cazzo ho fatto Ti sentivi ricchissimo Il bro Ha scritto Tocco Hai provato La modalità nuova Di mandalorian No ragazzi Dopo la proviamo Allora Ma dove cazzo È andato E allora No Ma dove cazzo Non mandala No Sì Dai Vaffanculo Che rimbalzi so Al muro Ciccio Prime Gigashad Ha scritto Ora mi sento Ricchione La cosa Sempre cambia Mi dissocio Cioè Oddio Sentite come te pare Però Cioè Nel dubbio Mi dissocio Miche periferia Meme Ha scritto È bello Simpatico Elegante Milanese Riki One Semplicemente Ciccio Prime Tosco è più simpatico I blur Godo Godo Sì Andiamo Sgorsky Grazie mille Grazie mille Va dato GT BAM In questo profilo Sono famoso Io per port Zero Mio nonno Andrea Fumaneri Ha scritto Fumaneri Cosa Fumacosa Non ho capito Che cosa Fumi Sgorsky Eh Deve Vaffanculo Comunque Che mi hai chiesto Che rex sono Sono Diamante 3 3 3 3 3 E c'è più 1 2 2 Benvenuto Kawasaki E strippers Come stai patato Oh tiglio Sono morto Eh Non ho battute Vabbè Magari fossi ricco Eh Ma in chi ha GT Ha scritto Tosco Uguale Papa blu Papa blu Papa blu Fumo i neri No regà Non lo dire Mentre sta parola Bagniamola Vi prego Veramente Mi stai facendo Giocare il canale Tutti i canali Ma comunque Sono sudadissimo Ma che cazzo Sto combinando Eh super Pitch Sto E certo Ragazzi Per forza Non posso Rimanere a secco Eh Non ho capito Ragazzi Non sto capire La sega Perché parte il sium Quando parlate No Non si cantano Certe cose Ragazzi Siamo un po' Nostalgici Così Vabbè Vaffanculo Dai Segna Che richionata Il big bro Ha scritto No Non scrivere Ste cose Ragazzi Facciamo le sedici Ma ma che No No Ovviamente No Sono ganchi Campione tre Diviso le quattro Non è proprio vero Vabbè Allora regà Io Oh Mamma mia Assolutanto Ha scritto Batti le mani Batti le mani Se sei ricco Il bro Ha scritto Sono ricco effettivamente Ricco dentro Un linfo Che Bello Regà Mi chiamavano La clippata Oh Passamela Massimo Oppure Mettila Su youtube Su internet Su tiktok Eh regà Non c'è sto Cazzo Che sta Tio Parla Con il pittore Oh Erika Bello Erika C'è la stessa immagine D'amico mio Oh 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 Guarda Non ho Boost Non ho capito Andrea Cosa fai Ragazzi Mi fa una sega a tre mani Quante volte lo devo dire Che è una pippa In confronto a me Quante volte lo devo dire Cioè Guarda Easy Easy Il Zadano non sa fa queste cose Parliamo se è chiaro Su Matteo Scarabello Ha scritto Che fa Andrea Che fa Andrea Si Bella Matteo Benvenuto in live Come stai Oggi il signor Barani Mi ha pullappato in casa Incredibile Vai Stucca No Parco Gt ha scritto Mi piacciono le 24 Complimenti U S R H N I R B E I Lunga Ha scritto Si uoma Papenel Regà Io c'ho una domanda Grazie bro Tutto bene Tu Si tutto bene Allora Ope fate parlare Dattuti di sta cosa Ciao Do 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 Se Topolino si fa le topoline e Pippo, che cazzo si fa? Oh, sono sciato a Dilla senza impigliarmi otto volte. Canfri 67. No, ma come? Ma come una sega? Ma qua sta mappa, ma l'abbia appena fatto? Le che? Le pipie? Al sugo, eh? Non ho... Cazzo, ho proprio da bampallo, sono da spazio. Ho preso il muro. Godo, porco Dico. Si fa i gargarismi con le zucchine. G.T. ha scritto. Si fa le pipie al pesto genovese. Che cazzo? Chi è che ha scritto se fai i gargarismi con le... Ah, Pippo, se fai i gargarismi con le zucchine. Alessio Cresta, benvenuto in live. Per iscrivete col bot, devi essere iscritto al canale. Tifo Lazio. E Godo, perché, raga, ieri era Lazio e... 1-0 contro Bayer di Monaco. Godo con... Sporco cinese. Che volo di merda, comunque. Potevo fare risette, potevo fare tantissime... Alessio Cresta ha scritto. Adesso dovrebbe andare. Esatto, adesso è andata, signor Alessio. Cazzo di me deve esserti iscritto. Mamma, raga, ma che... C'è uno, due, tre, quattro, cinque seme. Quanto vai fare? Eccolo. Non era se Topolino si fa le Topolino... Si fa le Topolino... Si fa i bambini che si fa. Si fa i bambini, ragazzi. Uno, due, tre, quattro, Barcellona Prime Moments. Bellissimo. Mamma, raga, i grucchi a casa, porco zio. Flavio Cocca ha scritto. A 100k follower tosco. CFA a 100 grave. La camera giallorossa. Alessio Cresta ha scritto. Per giocarsi insieme poi si può. Quando arriverò a 3.000 follower, farò una live dedicata per giocarsi i miei iscritti. Ragazzi, forza Palermo sempre e Cosa Nostra, mi sorella. No, quello no. Gabriele Capozza ha scritto. E bambi, chi si fa? No! Stava a sciccolta la domenica, raga. Anche questo se l'aveva declippato godevo. Cazzo, rubo del busto. Di essere iscritto al canale. Mode funziona. Pazzo non eri iscritto. O forse è scritto pure qualcosa di strano. Chiedi se vuoi giocare fortemente insieme a lei. H-N-I-R-B-E-I-Lunga ha scritto. No, secondo me, se magna la pasta alla carbonara con la panna e la pizza con l-ananas. Che spoco! Matteo Scarabello ha scritto. Bambi, il cadavere della mamma. Absoluteanto ha scritto. Forza Palermo. Forza Palermo. Ora funziona. Bici per noi. Altruista, pedicista, no. Non si può dire. Tre cavalli corrono in riga, ma se a Tosco dici che c'è un party di 0.12, corre come tre cavalli. Dovodi ha scritto. Spammatevi te. Non fa ridere. Non fa ridere, ragazzi. Non c'è da scherzare. Non c'è da scherzare sui stupi con le balle dei bambini, ragazzi. Vabbè, Flavio, a me è stato da tutto il suo portafoglio. Forza Napoli. Vabbè, vaffanculo, pure palo pieno. Proprio io in discoteca. Ciao, grazie a tutti. Siamo parlando a voi. No, no, non faccio il torneo del nome insieme a te, mi dispiace. Napoli Colera. Ma no, ma mi dissocio. Riccardo Porcelli ha scritto. Di dove sei? Allora, io sono... Ragazzi, di latino, sono di latino. Mamma mia. What's up, play? Atomico ha scritto. È buona di più la pasta con l'ananas che la pizza alla carbonara. No, sì, ma io ho pizza con la carbonara a sto punto. Jack mi associo. No, no, io non mi associo. Io mi dissocio. Si non spamma l'Ike e G.A.Y. No, è G.A.Y. Però sì, ma quando sei? Lasciate le like a live. Original. Nome originale. Non te la parano. Bravo. Ti voglio bene adesso. Oh, my fellas. Littoria. Che gioco... Caccone atomico ha scritto. Caccone atomico. Sembri Danic. No, raga, basta. Matteo Scarabello ha scritto. Ma questo invece è Ricky One. Il sindaco di Lignano ti arresta se mangi la pizza con l'ananas. Beh, guarda. Tiene la stessa cosa che vuol dire se fosse il sindaco. Tosco, devo andare, ci becchiamo. No, ciao. Raga, mi raccomando. Se volete potete seguirmi anche sul canale di Viola, mi raccomando. No, 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 no. Non sono Riccardo 1. Mi chiamo... Mi chiamo Riccardo. Vuoi baciare con calma mia mamma? Con calma però, eh. C'è l'azza fretta, va bene. Accetto. Dani Fonti stasera perdi il torneo. Che? Mamma mia, raga, ma... Quanto godo che l'ho saltato così, l'ho fatto pure esplodere. Capone atomico ha scritto. Devo cagare, il cesso è occupato, cosa faccio? Matteo Scarabello ha scritto. Dani Fonti rip per te. Madonna, Dovodi 39, sei mio padre. Cioè, 700 like sono tantissimi, cazzini. Grazie mille. Grazie mille anche a Andrea Fumaneri. Certo, sì, cambia del nome dell'account, perché veramente mi fai rischia tutto. Mi fai rischia. Grazie mille della donazione, patato. Te prego. Sì, sì, amico. Matteo Scarabello ha scritto. Ban. Come ban? Dovodi ha scritto. Mi si sta staccando un dito. Grande Dovodi, così te voglio. Spaccati il dito. A parte mi sono un triste API, like. Stai attento. Paola a via la live, lo so. Gabriele Bonaiuto, grazie mille per il follo. E mi raccomando c'è anche il canale viola per chi vuole, mi chiamo allo stesso modo. Bo, ha scritto. Posso uscire dalla cantina? No. Rimani ci. GT ha scritto. Tosco ma... Sì, mi avete scoperto. Non so come avete fatto, cazzo. Sì, user, sono io, ma... Che te l'ha detto? Eh? Non mi... Scusami. Belle Stocco, benvenuto la live. Scusami ciò. Il pepino. È un successo, mi ha preso in giro ed è tornata dentro? È visabile. Grazie a te, Gianfissio. Ci si parla vostra oltre. Sì. Mi raccomando ragazzi, al massimo picchiata le donne. No. Ti fai il 18. Mi dissocio, mi dissocio. Scherzo. Matteo Scarabello ha scritto. Ovviamente scherza ragazzi. Quiocciola cocca Flavio, io sto a giocare a Briscola con Aldo Moro. Sentri pure, te giochiamo tutti e due col morto. No, ragazzi, non potete dirmi queste cose, però, cioè, siamo online, regà, cioè, calmatevi, insomma L'espirate un secondo Eh, ma ciccio, regà, lavora, ma ciccio, lavora A quest'ora, sì Oh, oh, è online, ma è online Ma ciccio, dove è andato? Ma è online, sto stub... E mica mi dice nulla Vabbè, io l'ho invidato, poi se entra bene, non so perché c'è questo, lui il fratello sta giocando No, ma che c'è... Devo scorreggiare, ma c'è mia mamma accanto a me Va dire che è una trambata, ma che te frega Beh, tu madre E l'ho invidato, regà, l'ho spavolato in vidi, ma pensate che è il fratello che sta giocando E lui stava a lavorare, sicuro Tu lui lavora la sera, ragazzi, quindi... Boh, andata da la trovana, certa God, o scemo Eh, l'ho avuto... Aguitato! Perché ho fatto ball chaser? In che periferia meme ha scritto Questa cosa fa rima con Allegro? Prullatore ha scritto Il colore spagnolo in... Il colore nero in spagnolo Dovodi ha scritto Alza le mani, 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 se hai 33 bambini in cantina Flavio Cocca Ah, non si chiede proprio Cosa fa rima con Aldo Moro? Cosa fa rima... Non lo so Casco ha scritto Ciao, grazie al pittore sono entrato Bella, giocasco Bella, giocasco Andrea Fumaneri ha scritto Emotico Grazie al pittore Emotico Teodoro Teodoro Sette, teodoro Ha russicato che io volevo giocare meglio di lui Cazzine che gioca a scopla rosa Bella, è venuto, ok, ok Vi raccomando per i nuovi Comunque per chi non lo sa Sto facendo una live anche sul canale viola Scoreggiato ma mi ha tirato una sverla E che te frega Teodoro hai fatto godere che hai scorgiato Il perro salsicca Benvenuto in live Il perro salsicca ha scritto Benvenuto, benvenuto Questa è l'altro posto Non ero... Sono felice dunque che sento Non so se si è notato Miche periferia meme ha scritto Andrea Fumaneri cosa fumi? Erby vincezza ha scritto Io ci sono stato dentro quella casa Adesso mi sento male Per chi non lo sa tosco predica il fascio Non è vero No, Flavio, Flavio Tu aspetta che ti contro un sabato Tu aspetta Tu aspetta Te le farò pagare In qualche modo Te le farò pagare Dovodi ha scritto Aita No, no ragazzi Mi che periferia meme ha scritto Chiocciola giocasco lol Erby vincezza ha scritto Erby vincezza Toschi sabato prossimo verremo a Latina Flavio Pocca ha scritto Minacci il tuo top donatore Ma che minaccio? Ocosisis ha scritto Negri Flavio Pocca ha scritto Che gra... No, questo via al volo, raga Adesso Mi che periferia meme ha scritto E prima Androno No, ma vuoi ci via al volo A chi ha scritto una parola E sdrongo E sdrongo e stocco Matteo Scarabello ha scritto Sai cosa fa rima con Lamborghini? Mi che periferia meme ha scritto Ban? Dovodi ha scritto Ma rank su RL? Andrea Fumaneri ha scritto Quello che capita Ok, raga L'ho silenziato Per un minuto Vendo africani Dovodi ha scritto Mi dissocio L'ha scritto la mia prof di italiano Cosa, raga Aspettate Sdrongo ha scritto Negroni Erby vincezza ha scritto Bannatelo come comodo Fece il pollice in giù Miche periferia meme ha scritto Ha attaccato il bro Ha preso il volo per Latina Batti le mani Batti le mani Eh ma devi usare le botte Simons Gamer Giocasco lol Giocasco lol Impero Saccica ha scritto L'olio di oliva in olio di oliva extravergine Ma io non ho capito Ma dopo che uso l'olio extravergine oliva Diventa solamente olio di oliva Cioè, non ho capito Erby vincezza ha scritto Non è una vera live Manca emoji del diamante E' vero Manca pure Francesco Raga Ma prima di entrare E poi c'è il diamante Uno è entrato Però non so se ce ne stanno due uguali Adesso ti segui da subito Bravissimo amico Così ti voglio Raga ho fatto un sito In cui ci si può iscrivere Per avere XP infiniti Cioè Bimbi Infiniti Incantin Ansdrongo ha scritto Dio smerdati Ma quando viene Francesco E il ciccio Marco D Eh raga il ciccio Non lo so che vi volete bene Però che dobbiamo fare Lavora Ma i pelati in testa Hanno olio di oliva extravergine Parzialmente vecchio Fate Ma tu immagino Se può l'estate Quando sudano Batti le mani Batti le mani Batti le mani Se ti piace Rocket League E se ti fai le zero No Simonso Gamer ha scritto Mi socio Batti le mani Batti le mani Batti le mani Batti le mani Se ti fai le 12 No no Spera No Vero 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 Poco si si Ha scritto Stavo scherzando Con il fatto Di prima Comun Eh Meno male Il motos Dovete si Inzare Passa è Banno Spiace Ciccio Lavora per prendersi Delle cuffie migliori Ma magari Guarda Non so Tu prende Però magari C'è Le cuffie costano Magari Non 20 euro Dei cinesi Non ho capito Che mi hai chiesto Ansdrongo ha scritto Ciccio potrebbe anche Saltare dei giorni Di lavoro Dio smerda Tu Ma fatti Non si fa lavorare Guarda Non inizia a fare Le live Lo faccio io Lo faccio No Non è vero Non è vero Ciccio prende Meno Delle mie Sub Godo Godo Casco ha scritto Semuno che gioca In fascia fascista Chi gioca In centro campo Simons No Oh no Chi è che l'ha scritto Viene bannato Me ne frega una sega No anzi Prima Prima lo sospendiamo Poi dopo lo bagniamo Se è continua Ma se Poi se Se battuole L'hai fatto Poi l'altra volta Sta battuola Non fa ridere Non fa ridere Riga Cioè Dovete capire Sta cosa Ecco Guarda Dovodi ha scritto Batti le mani Batti le mani Se giochi a fortnite E se tua mamma E in cantina Prullatore ha scritto Batti le mani Batti le mani Batti le mani Se hai le mani Simonso Gamer ha scritto Ci siamo Ci siamo Ho le mani Ho le mani Viva Tosco Vinci per noi Ho sentito il coro così Capito Riga voglio il coro Tipo Fate Hashtag Vinci per noi Vinci Sì Vinci per noi La devi toccare Che cazzo Gli tocchi Che cazzo Gli tocchi La devi toccare Il pallone Cioè Deve poter giocare Dittura un joystick Aldo Moro Inculati Boigagu ha scritto Ho preso un colpo Absoluteanto Ha scritto Batti le mani Bravo Ho letto Lascia che vinci per noi Se sei bello E ti fai le dodici Non ho battute Flavio Cocca Ha scritto Ricky One E il Toschiale Oh E il Toschi Il Purgatore Di sedici No Era così pena la frase Che lo doveva rovinare Va bene il dubbio Verona capitale Il Pero Sacchica Ha scritto Il Pero Sacchica Bordo Bacchica Il Pero Sacchiccia Bordo Bacchiccia Domani mi trasformo In fede fumanera Ciao Davide Ben Bruin Live Casco ha scritto No raga Batti le mani Batti le mani Batti le mani Batti le mani Se ti fai le dodici Non scherzavo Se vinci la partita Eh fratele Non posso battere Erby Dicez ha scritto Se chi gioca in centro È centrocampista Ti tosco di dove sei Latina Ti tosco di dove sei Boigagu Ha scritto Batti le mani Batti le mani Batti le mani Se ti piacciono i cani E se hai i bambini Incantini No 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 È molto bio Questo parco È molto bio Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ho me felles Ho me felles Lega No Do you ringo Do you Te prego Do you Sbaglia Do you ringo Vai Do you ringo Te prego Do you ringo Do you ringo Te prego Do you ringo Dicono Chi non battele le mani Non scopano domani Quindi tosco Batti per noi Mamma Infatti pensare Che domani Può essere No Scrazi Ho visto il canale E non hai messo Nessun video Di scusa ciccio Eh lo so Raga Ciccio è scusate Lo so Ma ne si è accorto Oggi Scusate La casa di Toschi È molto minimalista Ma non ho trovato Nessuna traccia Di sbova Boigagu Ha scritto Oh Amici Big bro Benvenuto in live Ah no Il big bro È quello di prima Vabbè Sorry Non ho riparato Se fossi un altro account Che vi chiamate Cioè c'era del nome È diverso Da un utente Ufficialmente messo Ciao Francesco Pari Parisi Benvenuto in live Perché il botto non risponde Perché ti avessi iscritto al canale Intanto sono diventato Eminem Ma attenzione Prendo il booster Prendo il booster Prova il tiro Quel coglione Io esco perché So che c'è mio compagno Allora La prendo Sono diventato Eminem Praticamente Codo E non c'ho busta Matteo Scarabello Ha scritto Batti le mani Se sei fidanzato Se non le hai battute Puoi farlo ora Ma ora sei nei me controte Gio Casco ha scritto Ma oggi siamo molti di più Ci posso stare Eh ragazzi Questo perché Allora Nelle giornate in cui Alcuni pezzi di merda Non ci sono Io ho farmato altri follower Capito Quindi mi raccomando Quando vi siete dei unici In realtà Non presi altri follower Ed ecco Oggi Oggi Si sono riuniti tutti Tutti i toschini Si sono riuniti Codo Scusate raga Per stare emozionati Mi sento studio Scusate Mi dissocio Ho sbagliato Un latore ha scritto Nel cenone di Natale Ho chiesto La coca E mio cugino Ha uscito Un pacchetto bianco Ah ma è torneo Regà Hans Drongo Ha scritto Siamo i quarti Come la la No zitto Zitto Non lo posso dire Che ancora non è Vinto Grande Maglio Grande Una volta Una volta Ho visto Tosco Che mangiava Un hot dog Ma senza hot Non credo Non credo Non credo Non credo Non credo Non siamo mai mangiati Non abbiamo mai mangiato insieme Che cosa strana Comunque me lo farei proprio Un hot dog Lo giuro Vabbè Intanto dobbiamo continuare Allora ragazzi Tagli un pugno Un pugno ai reni Così sei piegato Poi gli vieni nell'occhio Diventa così E quindi sta E la mossa è più ad arrabbiato Possiamo giocare insieme Dai gioca con me Perché non giochi insieme Gli iscritti Sta attento Sta a campana Flavio Cocca Ha scritto Hai saltato un pezzo E non me lo ricordo Perché era Pugnerini Poi che era Lo so che Flavio L'hai fatta con Tu sorella Però No Non esageriamo Non abbiamo se personale Tosco sono in hotel Con i vest Che guardiamo La tua live Con i vest Ma vaffa L'uovo Oddio Nexus O me felless Tutti insieme Tutti insieme Li raccoglono tutti E trenta spettatori Su Su Buona Perché non mi legge i messaggi Perché non sei iscritto Chiocciola giocasco godo No ragazzi Se stai diventando tanti Mi ripeto sempre Mi ripeto sempre Mister Mi ripeto sempre Incredibile Oddio Nexus Di prego Scusa Nexus Non volevo Fic Fic Non l'ho capito Non l'ha capito Il mio compagno Il mega Fic Che ci fai Nella live Di Toschi Mio padre Lol Ah È perché ragazzi Sta diventando Ultra famoso Una volta stavo scrollando Ho buttato Uno scorreggio fortissimo Che ho svegliato Pure mia madre Flavio Cocca Ha scritto Cosa è che ha Cento grave rima Con rame Eccolo L'hai chiamato il Sium L'hai chiamato Sì Mamma regà Ieri ho visto 45 minuti della Lazio Più quelli finali Così stavo Così Mi sono visto il primo tempo Poi la fine Quando ho visto Una a zero Mi sono eccitato Come un bambino La Lazio che vince Così contro il Bayer Non mi aspettavo E la Laziale Non mi aspettavo Non mi aspettavo Non mi aspettavo Cosa è a casa Se batti le mani Sei bello Se non le batti È lo stesso Scherzo Ti piacciono Sono le 12 Ah goto la battuta Quindi è stato posto Gabri ha scritto Bara Io sto ovunque Onnipresente Matteo Scarabello Ha scritto Una volta mia nonna Mentre stendeva i panni Ha tirato una scorreggia Così forte Che li ha tolti Hanno sbagliato Hanno sbagliato Due volte In quella porta vuota Ma what the fuck Erwin Jets ha scritto Ma al posto di battere le mani Se vi batteste le madri Chi è che l'ha scritto Ma vabbè Per forza il signor Barani Lo poteva dire Dunque vi ricordo Che per i nuovi Sono anche su Twitch Oddio Nexus Te prego Casco ha scritto Bello l'autogol Matteo Scarabello Si veste i miei finali Wow Coschi Rui Patricio Ma come Rui Patricio Il mio compagno Ma ti importa Tosco ma le conosci Le barzellette De Totti Si le conosco Regà l'ho visto i video Sono Domenico di ieri Soprannominato Bugiggio Ti ricordi Ieri non ho streamato Però penso all'altro ieri Si mi ricordo Emoji della corona Ghiaccio Ciao Francesco Ciao benvenuto in live Francesco Boigagu ha scritto Inter o Milan Inter o Milan Ragazzi mi raccomando Se volete Volevi dire anche su Twitch Che c'è So stream pure là Insomma Volevi farci il salto Poi se volevi abbonarvi Col Prime Vabbè Comunque ragazzuoli Siamo in sei finali Aspettate altre partite Ci sta Ognuno ti fa Ciò che vuole ti fare Manca un minuto a loro Più o meno Non faccio Ah peccato Peccato Un giocasco Che mi donna così Ti amo Ti amo Ti amo Giocasco Viscola Non lo so Perché la Fennec Non mi è provata Raga Però penso La Fennec sia meglio Mi dissocio comunque A te Non l'ho capita Però Perché non so Di cosa stare parlando Atomico ha scritto Bro apri la cantina Che so antipatici Bravo Diglielo Diglielo Barani Flavio E Matteo Questo Vedo le leccano No Però Regà Cioè stare un po' Sgrava Magari Cioè so serio Un po' Stare un po' Più calmi Insomma Va bene fare le battutine Ma non troppo Cioè non troppo Vuoi farmi una dichiarazione Di guerra No no ragazzi Boi Gagu ha scritto Ma te usi la Subaru Bacca Piango Erbi Dicez ha scritto Cantina A casa Burger Mada Burger Mada Che storia Cazzo Piango Oh Flavio ha scritto Piango Wow Che bella cosa Cristian Scimone Ha scritto Chi sei Scimone Oh Da quanto tempo Cristian Benvenuto in live Come stai Ho tapposto Chi vuole giocare Sono solo da un'ora Bella raga Bella a tutti Oh Ce l'abbiamo fatta raga Semifinali Di questo torneo Non succede Ma se succede Giuseppe Simone Che c'è Frampeggio Che Rizio E poi ci Triste Va bene Le patatine Depilate Boi Gagu Ha scritto Framida I tre bambini Per potenziamento Del mini Pecca Dennis il campione Oba ha scritto Dennis il campione Oba Cosa fa prima consocio Frullatore ha scritto No Sì Ho un'altra clip Da fare Grazie mille Flavio Cocca Ha scritto Cancelletto Lucat My Story Ha scritto Un HP Tutto bene Tutto bene A te Frullatore ha scritto Cioè Beh sì Ho già risposto Scusa Ma sono felice Te ho fatto tutto bene Insomma E adesso Seguire la differenza Di uomini e ragazzini Tra la gente seria E la gente Che cazzeggia Semiminale Del torneo Sì però Taggami In quella clip Va bene Lo farò Non mi ricordo Chi Chi account sei Però Va lui Va bene Ci sta Matteo Scarabello Ha scritto Ti do questa notizia In conclusione Orecchini E' l'anagramma Di Ri Herbi Dice S'ha scritto Taggami le mele Non ho capito E' ricosa Vabbè Non lo voglio sapere Siamo in 43 Perché ragazzi C'è il mio streamer Di tiktok Diciamolo Oddio Oddio Che cazzo Si è magnato Questo è ricco Regà Questo è ricchissimo Proprio Il mio compagno No no Oddio Ma perché Perché Ma perché Di fa ste cose Ma perché Di fa così Ma di mani importa Va bene Ragazzi Se vinco Ma sai La pefana Lo faccio Bel dunk Anche se non lo conosco Quando fai Quando fai delle gustose live NPC Mai nella vita Più qua Guarda Inizio dal fallo Venite con un cecchino E sparate Non ho capito Non ho capito Non ho capito Per seo Per seo Per seo Per leo Per la torre ha scritto Bimbi incantina Punto com Sì No, bambini in cantina Sito per avere WBAC gratis C'è ragione Un cavallo vapore? Dieci cavalli vapore Tosco che ne pensa delle tiktoker Che per due follower lo leccano a tutti Tu lo faresti? Herbie vincezza scritto Io lo farei pure senza perdere nessun follower Boigagu ha scritto Se vinci karaoke Raga, ok Se vinci qua c'è un karaoke, va bene, ci sto Cavalli vapore, raga So i cavalli che c'è con l'auto Se non sbaglio Un cavallo vapore, due cavalli vapore E' tipo il Cioè E' un sistema di misura, no? Tipo il metro Il chilometro Il pisolometro Emoji del serpente francesco Emoji del serpente birichino Birichino? Cioè Non è un serpente normale E' un serpente birichino Ti intendi tipica? No Ah ma è cortomuso E' tutto Cioè C'è Il cavallo Per bici Da ora E' la stessa cosa Che fa rima Con socio Ne hai un incrocio Quindi Non c'è più boost Sennò la poto fare rebound Incrocio Comunque Ah Procione Sì 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 Mi rubi il busto e non vai Si allora si è veramente un procione Ehm Amoji Sai chi tira Fra cazzo Da belleri ti tira E invece ecco qua Quel alto A caratosco A caratosco Faccio A caratosco Facke S véi palo invece boigagu ha scritto il karaoke si avvicina e raga è semifinale è semifinale batte 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 se non batte non è al pateto e non è un cavallo vapore del sopra sotto erbi dicezza scritto caliboi emoji confuse boigagu ha scritto canzone scegli tu solo una canzone però mi ripeto sempre in realtà mi ripeto sempre ad acquistare bimbi in cantina punto com oddio no oddio il tosco gli recupero proprio in corsa come un gollo cantico come guindosì come i migliori giocatori in difesa proprio puglial prime moments ramos prime moments bonucci colmina che si fa casca vabbè non la potete sapere questa grazie per la visione questo è per voi siiii siiii sommiamo tutti insieme ragazzi oddio prego dennis il campione ho va scritto un cavallo vapore due cavalli vapore five tech ha scritto mi faccio le 23 erbi dicezza scritto ma perché ogni volta scrivi sempre gabrie emoji del diamante voglio investire in questo progetto frullatore ha scritto semplicemente il tosco con il record di 700 bambini in cantina mi dissocio ovviamente alessandra ha scritto rank gio casco ha scritto vuota save christian scimone ha scritto sai cosa fa rima con piccione five tech ha scritto ce l'ho enorme flavio cocca ha scritto ma alla fine la 13 che ti ho dato in prestito con diritto di riscatto la compi o no 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 lasciamo la lampachina boi gatto ha scritto nu il karaoke erbi dicezza scritto sapete cosa fa rima con bioparco matteo scarabello ha scritto barani mi fai conosce quella della tua foto il campione ha scritto dennis il campione ha scritto dennis il campione ha scritto lo spammato in chat oh si spammato un'altra volta regale mi suspenso come cazzo ha fatto questo minuaiei ha scritto il toscu ho capito rega ma il mio compagno eh vabbè eh vabbè eh vabbè tra la 13 lasciala giocare a Roblox se no finisce in cantina bella Gabriele ben tornato in live five tech ha scritto impero sacchica ha scritto che palle volete che Tosco volete che Tosco vinca nu volete che Tosco vinca nu volete che Tosco vinca no dai rega c'è ma cristo oddio questo non è capace a parau non è capace a far cazzo se avessi un due ciccio questo ordine ha vinto questi sono scarsi dobbiamo giocare insieme ecco invitami nel tuo team ecco giochiamo dai stai giallata da qui ma sai il mio principale volete che Tosco perda nu boi gagu ha scritto nu peccato peccato rega il karaoke ci ha abbandonato eh sì rega niente karaoke sei sotto un cielo sbagliato rega è tipo quando perdi ti voglio tipo allena un botto è colpa di un cavallo vapore ryan ha scritto bro bro bella per uno ryan come stai ho t'apposto dice il Tosco cazzo mille cazzo mille cazzo mille sei del sei del e qui ti lascio per sempre che rank sei c'è più uno due v due e diamante tre nelle tre v tre nelle tre v v er v v dicezza scritto eres della calle della sarte san espanol della reina troppo semplice il Tosco signori cazzo mille dopo i like no ti formi nessuno forse ci vogliere che colore era michael jackson boh frate passava dal colore un po' scuro al colore più chiaro anche più di me perché se ho fatto le peggio operazioni nella tuta gold non mi sento tanto bene cinque tre ti chiamerò giorni per il gol cristiano siamo due ragazzi easy per il blur si ragazzi è il mio blur di tiktok ti ho inviato la richiesta va bene grazie l'ho vista la richiesta però tanto faccio che voglio rimanere una trevina follower stai già là tranquillo frullatore ha scritto frullatore c'è l'essere se segni al minuto 1 69 dono 6 rose ok ha dovuto segnare al minuto 1 e ragazzi 69 rose ma arriviamo tipo 35 centesimi let's go cassa tutto calcolato se glielo chiedete tante volte dirà di sì no te prego si no voi insomma non si può mangiare no non ce la posso non è potete giocare con me non giocare non giocare con me v'ho detto che a termine ho la live speciale per giocare insieme a voi basta non è live per giocare insieme a iscritti insieme a vera trovate uno che va in live e volete giocare insieme a voi ma tra quanto posso giocare bene chi è che vuole più al ban hai un buco di di culo ah il minuto 69 adesso adesso parlo io fuori frullatore ha scritto il tosco che entra all'89 esimo e fa gol al volo carina giocatore su gli effetti 24 dici si 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 se confermi l'acquisto per quella 2013 no 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 si ha scritto tosco se non giochi con me ti fai le 18 no scherzo rocket non mi piace ryan ha scritto ma se dopo si fa torneo privato tutti no five tech ha scritto ciao tosco vado a farmi le 13 boi gardo ha scritto ah 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 fuori il cheat dell'anno ci sto capo in cazzo comunque questo flavio cocca due scrive scrivendo un cavallo vapore mamma te prego licez ha scritto tutti insieme si ecco lo tutti insieme su non ci credo tosco gioca con i follower solo in real life me si parte lo stesso me si parte lo stesso no porca crullatore ha scritto dai alla fine per il tosco è bello rocket e le 15 no 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 ma tizio questo dice che spammare il messaggio ok ma che cazzo vuoi che se stava a vincere grazie a me ma fammo camma but why you dennis il campione ova scritto messi vuole fare s3 ss0 erbi vincez ha scritto tosco go 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 let's go 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 this is my show sembri tank ma l'hanno già detto patato frullatore ha scritto in tosco come danic let's go 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 this is my show una volta ho visto tosco guidare per 69 ore non stop non ho non ho la patente non so come ho avuto a vedermi ma hai guidato big dip lezzo dip lezzo dip rayon ha scritto big dip dopo 1 vs 1 broski stai già là tranquillo ho già fatto non più ok le ho notte lasciate il gioco altrimenti sto tizio inizia a parlare oddio attenzione chi è chi è sarebbe di juan che ne so ma perché è una canzone non ho capito il meme io io sono solamente 5 cipollari nella tuta gold si ti chiederò ha scritto tosco ti sfido pensa ad un numero tra 1 e 7 vai prullatore ha scritto ma vi immaginate all'ultimo minuto il tosco fa una giocatona e segna e porta la squadra alle finali eh purtroppo non siamo più nel torneo ragazzi finito il torneo siamo usciti se lo indovino giochi con un fan a casi va bene va vai ervi vicezza scritto tosco 1 ha appena comprato 20 sub me coglioni vabbè se fai autogol stai sotto nel punteggio cristian cimone ha scritto 5 cellulari nella tuta gold solo quando c'è una verifica furia vabbè l'ho visto come meme bello tutti insieme su vabbò la mia coca ha scritto 7 no sbagliato adios è sprecato la non so che in psicologia dicono che se tu dici un numero 1 a 10 il primo numero che pensi è 7 e invece e invece no t'ho sgamato vabbè 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 vaffanculo ho fatto due docchi due docchi di merda oh ecco il gol easy golasso del tosco doppietta per lui no era 3 fucking hell rank non so non so era 3 no non era manco 3 this was your fault ha scritto stai mentendo ho visto quel sorriso niche sul tuo volto solo quando mi hai detto che eri etero regà ha fatto una coglione ma ho già votato sta 4 a 0 vabbè non ci ho capito un cazzo regà ha scritto batti le mani se ti piace rocket eh sì mi piace stai mentendo ok guarda il messaggio di prima eri dice ha scritto e te lo dice flavio che se ne intende di sorrisi niche ok lì fai sorrisi nikes no easy per il boss il topo è così concentrato che a quest'ora i bimbi in cantina sono scappati porco 2 vabbè davvero è l'unico momento in cui possono scappare questi figli di puttana regà mi sa che mi sa che ho fatto un po' di views su su beh vaffanculo dai 3 a 2 ci stanno a recuperare lo sapevo il Tosco eh vabbè il pazzo sgravato sgancia questo centesimo incredibile che sto emozionando beh 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 chi è ma donato ragazzino è il pazzo sgravato Flavio Cocca ha scritto Barani non mi superari sta rosicato Flavio eh Godo 4 a 2 niente Barani sta a sgravarsi no pure Flavio ha donato no ragazzino a tutti niente sta rosicato Flavio dimmi Gabriele c'è su Twitch frullatore ha scritto no bro la limonata del Tosco è formata dal piscio dei bambini in cantina eh e che cazzo dai fatti non lo odio però che niente segreto era finanziamo Tosco per conquistare la Palestina vabbè vabbè 5 a 2 a casa dai raga non è a piangere ma basta non ti è stato no basta raga no zi non c'ho scherzi preferisci a pesca o limone guarda vi ascoltea la pesca perché poi il limone lo facciamo dopo capito con 2 ha peso quasi palo bello you don't want to play with me fine what an abbe do you frullatore ha scritto ma il Tosco che prova Cristian Cimone ha scritto nullo volevo dire io ahahah Flavio Poca ha scritto only for Tosco è la madonna l'ha chiusa così oh con queste 5 rose incredibile che giocatore raga vi ringrazio vi ringrazio a tutti questo è perché oggi è a casa mia barà così di impari va paga va paga sgancia soldi investi sborsa va raga mo se va next e comunque raga passale su Fortnite 100% mi ha stancato con Rocket c'è Ryan ha scritto pk non giochi con noi perché è un casino raga è un casino non me va mamma mia ho mangiato il minestrone e devo buttare un mostro asterisco miche periferia meme ha scritto eccomi bella Vittoria mangio solamente Elisabetta è meglio una macchina nera o una nera in macchina beh una macchina era bella ma è sicuramente di più no mi dissocio mi ha detto qualcosa di misjudged quindi lasciamo sta un misunderstanding per il best quindi mi dissocio nel dubbio si vabbè 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 bello io comunque tiktok mi banno tutti i messaggi è perché scrivo qualcosa che è bannabile per lei probabilmente tovo di però Flavio Cocca ha scritto dinosauro da 15 dinosauro da 15 perché esiste il dinosauro come donazione io non ne so niente quindi è meglio una pecora nera o una nera vabbè è la seconda di mo' la verità c'è senso a sto punto un po' lo sceglie Caccone Atomico ha scritto non ho frate ma prima ho scritto apri la finestra e me l'hanno bannato ah ok Flavio Cocca ha scritto agenzia delle entrate controlla Tosco ma io direi pure Barani a me sa che qualcosa di strano sta a fa Flavio Cocca ha scritto Barani sta caricando i peggio soldi no non è vero frate no non fate vabbè a parte comunque rimane tutto nel saldo di tiktok posso scegliere benvenuto nutellina come stai da posto raga ma se la posso fare un'altra porta forte e te ve piacere come content bella fortunitata niente ho pure bampato bastardo Caccone Atomico ha scritto viva la fila dal Kebabaro perché sono un meniaco derla scritto tutto a posto te Flavio Cocca ha scritto meglio roulette russa Flavio Cocca ha scritto però accetto erbi di no non mi hai caricato i soldi ragazzi mi cremo lino per il follo mi accorgono mi ricordo pure che sono sul canale viola sono un meniaco derla scritto che gol grazie lo so odio quando mi capita è arrivato prima lui ci sta attenzione benvenuto Michele Molino come stai tu a posto erbi dice s'ha scritto Toschi non ho capito cosa intendi non so Flavio ha detto che stai a carica i soldi spero che non era così ma dove è andato ma dove è andato io bene grazie ah sono contento sono contento zona Juventus ha scritto di dove sei 20 monede basta no zi non ci voglio vedere Flavio Cocca ha scritto mani in alto questa è una rapina caccone atomico ha scritto quando chiudi la live per il sole ha scritto verso le dice zona Juventus da quanto c'è la zona della Juventus è una città regà non la conosceva la città della Juventus chiamata anche Torrentinus Juventus no non so che cazzo sto a dire che abbasta intanto continuiamo quello va va a bampare con il Vinc provo il volo vaffanculo è veramente zona Juventus è peccato peccato ragazzi uno ci prova intanto vado a prendere un altro boost attenzione Taram non potrebbe chiudere lo fa già vedo lì rimbalzino fatto per bene Maria prima Herbie dice sa scritto potessi caricare le sub ma te ci sta il canale viola quando te pare zona Juventus ha scritto però non troppo che sono abbandono caccone atomico ha scritto se mi fai i compiti mi apri la cantina ok non ho capito che c'è barani ovvu hai vinti tu ma la prossima volta carico un centone zona Juventus ha scritto puoi salutare pulsano bella pulsano Erbivicez ha scritto io carico lezzoski dai sei portavoda figa su vamo volevano farmi esplodere non è possibile che ogni volta che c'è un tuo video di miei per te sotto ci sei te in live vabbè non lo so perché sta cosa non la so sinceramente oggi mi sono scoperto pure di fare il video prima di andare live non mi chiede quella è questa è una casualità sto giro vai 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 ecco non ci sono arrivato mi dispiace ah è il tuo paese non so la quale esistenza oggi 107 centesimi profitto 1 euro e 700 centesimi a me mi rivela di una metà siiii no non si può giocare con me mi dispiace oggi avete 3.000 follower fare una live dedicata con gli iscritti per per giocare insieme a voi vabbè 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 vaffanculo ne ho fatto un cazzo fino a ora dove ho fatto gollo caccone atomico ha scritto ma il torneo è finito o stai a fare le finali eh il torneo l'ho finito raga sono arrivata sono uscita dal serie finale finisco le monete non ho voglia di lasciare avanzi perché hai lasciato 5 centesimi ovunque raga andiamo a scegliere in inglese che cavolo ricordo che i nuovi sono anche sul canale viola sul sito viola ma cazzo basta Flavio Cocca ha scritto Barani magari resti povero per donare ma mi chiama Flavio stavo così ho veduto per le relazioni mi sento male come è qua che c'è state carino Flavio Cocca ha scritto il sorriso mi chiama Flavio Cocca il sorriso Nike ragazzi se ne giocasco per i like va dato Gio casco ha scritto la luna la devi aprire eh lo so raga ma ne ho ma ne ho ma ne andiamo aprire come apro la mamma dei barani si scherza si scherza come apro la mamma dei cicci che in un momento non c'è sta presente quindi possiamo pure erbi dice ha scritto ovviamente i soldi sono finanziati dalle sub sium ingazziamo la versione che ho per i sub oh Flavio Cocca ha scritto dopo questa ti dono tutto Flavio Cocca ha scritto giochi sporco infatti c'è voraccio Flavio invece va a lavorare non so che cosa fa anzi vanno all'università proprio in med non c'è un lavoro fisso come il signor Barano vabbè andiamo next raga campioniamo divisione 2 vinted che senso vamo vamo Flavio Cocca ha scritto Flavio sta in 5 superiore che schifo erbi dice ha scritto che fai il corriere non ha capito il fake raga dai era ovvio l'avo vincee ha scritto ciccio me fra comunque Flavio Cocca ha scritto vendo i giubbotti con la farina crullatore ha scritto ciccio me fra bella vince per quel live no no non è vero raga non è vero basta tiktok led questo si chiama solo lui sa stream probabilmente che giocatori che siamo passaggi così 1-2 cotto non puoi passare cristian scimone ha scritto meglio un chui l o gelato o un gelato nel chui l o vabbè ma vaffanculo a me ma davide martenne ha scritto auguri ragazzi mi vi auguri ragazzi davide meglio un chui ma è vero che secondo te bisognerebbe investire nell'oro considerando il tasso di inflazione attua no insomma no comunque raga non mi avete ancora fatto gli auguri eh cioè l'unico che si è ricordato è davide complimenti bello mamma mia il tosco sta facendo tipo dibala e ronaldo questo gol è bellissimo raga dibala e ronaldo messi insieme ragazzi di milan ragazzi mi vi auguri ragazzi siamo sbadati ok no infatti no pensavo pensavo fa uno scherzo invece avevamo scordati raga c'è io pensavo che stava fa uno scherzo ma sarebbe meglio investire in cripto o investire le prof flavio cocca 2 a 1 ragazzi let's go va bene lo farò chi è ho trappiava non è vero mi faccio i cannoni però cazzo sono degli auguri chiaramente le sei ricordati cazzo meglio un deretano gelato o un gelato nel deretano meglio un gelato nervi dice cazzo scritto io però mi faccio la madre di flavio fi 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 frullatore ho serio auguri bro grazie mille gabbi no ma sapete a meno perché mi è stata a fare auguri o lo stai di così a caso non è messa a più in giro cioè io bro davide martenne ha scritto mi dispiace ah si vabbè non c'è ciccio però non mi posso scusa con lui posso chiedere passato scusa a voi comunque mi raccomando ragazzi per i nuovi fatevi gli auguri cioè anche se voi non siete che cosa però io spero che qui mi hanno dato gli auguri sappiano il perché no sono messo come barani raga quindi è un po' un problema per me scherzo no si l'ho persa purtroppo adesso veramente diversamente abile no 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 Clavio Cocca ha scritto attento a quel che dici no bro gli auguri perché hai vinto la FNCS dei bambini clamoroso come ho fatto a capirlo non ho detto a nessuno ma come no ha scritto batti le mani batti le mani batti le mani se le hai battute ti piace Rocket League e le 2020 no Cristian Simone ha scritto meglio un pacco di Wurstel o nu Wurstel ND e pack nu Wurstel e pack che parata che parata che parata che parata look look lock in brew no ho fatto il doppio salto oddio boh frullatore ha scritto no comunque i Wurstel dell'Eurospin scaduti sono più buoni ha fatto il must ha scritto meglio farming simulator allora se volevo farmare una fattoria ma la facevo no in realtà coglione il mio compagno davide martenni ha scritto posso giocare con te no davide ha scritto per sicurezza ti chiedo sei favorevole alla pena di morte ma no c'è assicuramente no no dipende dipende si perché quando c'era lui secondo me c'è stata questa cosa ma sta zitto che io prima di essere un latinense doc io abitavo in una campagna prima di trasformarmi è la più campagna quella che tutta borgermata probabilmente senza busta rica io rica abitavo a santi l'ario se ne manco tu stavo ci stavano i rumeni dal mezzo i log tutto ha scritto io e il mio bro siamo in semifinale nel torneo bravo brosco noi siamo arrivati solo che poi il mio compagno ha deciso di sbagliare qualsiasi tipo di parata quindi abbiamo perso ma si è così le sgoschi perché se no non mi piace ha scritto ha scritto rumeno di sera galera si spera davide martenne ha scritto anche sono rumeno ripulisco tiktok ha scritto abbiamo avuto culo a segnare a due secondi dalla fine flavio cocca ha scritto barani spammiamo tosco dalla daniel bella da fan benvenuto live benvenuto per Luigi no daniel mi dispiace c'è stato alcun altro nuovo benvenuto a tutti ragazzi iscrivetevi c'è anche il canale sul sito viola frullatore ha scritto ho le telecamere della cantina e ho visto i bimbi che stanno facendo un piano per scappare no vabbè davide martenne ha scritto ma perché non giochi con i fan perché è troppo c'è ci vuole troppo organizzare sta cosa ogni volta se si aspetta uno e non la richiesta poi entra no troppo rega rischio giocare da solo grazie mille che era via no grazie per la donazione un altro amico ha le telecamere veramente dentro casa sua fa bene frate poi io lo farei oddio non è vero donna ha scritto cancelletto tosco puniscimi davide martenne ha scritto ma si twitch hai le donazioni aperte si si ha donazioni sia ci sta nei bits ci sta nei prime amazon prime un latore ha scritto fravacci di spada chi di spada ferisce di spada ferisce erbi dicez ha scritto diciamo che toski è tutto aperto no non è vero la viococca ha scritto è sempre aperto a nuove esperienze non tutte che non sono non sono molto ricco ecco davide martenne ha scritto quale la tua reazione se ti donassi 50 un pezzo sciolgo per terra si ho meno dei 15 mila attenzione ah non che calcola sta casa qua dove abbio io è in affitto quindi sui iaia caccone atomico ha scritto fravilda davanti la porta così le pari tutte poi ti metti nel cespuglio davanti la porta loro classico che ci ho pensato prima se te regalo casa di jack bezos eh magari erbi dicez ha scritto un vero latinense non ha la casa di proprietà cristian scimone ha scritto dici si 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 no flavio cocca ha scritto sai cosa c'è in comune tra una penna una matita e la famiglia in comune tra una manca rullatore ha scritto tosco i bimbi si stanno a mangia un topo si stanno nutriendo non va bene riprenderanno le forze davide martenne ha scritto ma lo farai mai fortnite si raga passi a live per forza su fortnite il flicker avanti no non esiste non lo può fare davide martenne ha scritto come ti chiami su twitch tosco è uguale a tiktok calcola ovvio anche su instagram se ti ha il film lì ha scritto a non che nome da gay oh my fellas cristo oddio questi stanno sudati stanno col chino stanno stanno si follo let's go nicola lanza grazie mille per il follo madonna che ansia è è è grazie mille per il follo quando la ragazza la dà a toski lui oh my fellas oh my fellas cristian cimone ha scritto sai qual è il tatuaggio che hanno sempre le persone di colore non lo so non si vede mi so crullatore ha scritto i bimbi che si stanno trasformando nel frattempo il tosco oh my fellas oh my fellas cazzo si è trasformato a dei pokemon sti bambini c'era che hanno fatto fuuuu benvenuto Nicola eccomi bella Davide ecco in modo vedo sulla chat di Twitch è bello come il sole bellissimo cazzo guardi avete mai visto tosco e don gino nella stessa stanza io no erbi dicezza scritto toski slay kawaii odio la mia vita flavio cocca ha scritto sciolgo le trecce ai cavalli sciolgo le trecce ai cavalli erbi dicezza scritto toski sembra che il cappello non ti entri sembra ryan ha scritto er toscano dè cristian scimone ha scritto immagina prendere gol da fazze yaya no guarda vaffanculo sta partita mattina piando il culo eccolo erbi dicezza scritto e le tue gambi eleganti ballano te prego tira 86 traversa preso ti posso chiama air toscano no non mi paghiamo così lo sapevo prendiamo qualcosa erbi erbi dicezza scritto balla per me balla balla tutta la notte sei bella non sorridere ma balla fino a c fino a che non fino a me sto in auto con armando maratosco ryan ha scritto a h h o k k ora piango fake oddio te prego raga mi sto a cagare a mano ryan ha scritto che bel gol rullatore ha scritto parte 2 i bimbi che sono diventati dei pokemon nel frattempo il tosco iaiaiaiaiai erbi dicezza scritto toski sei il prescelto che sa questa canzone che si usava sempre a borghèmada ma grazie a te davide sai cosa divide l'uomo dalla scena e mia non è andato però te ringrazio guarda vabbè poi mi sto sentando un po' emozione non ne scrivono però c'è ringrazio a voi che mi guardate non cristian cimone ha scritto la basilicata buongiorno 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 flavio cocca ha scritto l'altro giorno mi sono comprato una crostata e mi sono chiesto quanto è costata quella crostata c'è la cosa che mi fa impazzire è che tra crostata e costata c'è una lettera sola di differenza per me questa cosa è incredibile proprio comunque grazie mi leva il messaggio davide l'ho letto prima mi sono emozionato benne ha scritto eccomi sono ritornato su tiktok eh purtroppo non è nel text sospice che non ce l'ho collegato ma quanti leak è il ponte sullo stretto di messina e 3.000 no quanto stiamo no e 10.000 e quando ragazzi c'è che arriva 8.000 like per adesso no ma è non il jump reset a fanculo sosseus ha scritto sono tornato cucciolotto mio oh per me lo basta in cione alla crema grazie per la donazione però dalla scia mmia la basilicata a me mi dissocio grazie mille davide la rosa grande davide hai fatto piangere tosti sei contento? no ma che chi ho fatto piangere frullatore ha scritto parte dei video ormai sono degli ormi che si sta parlando sotto su crostata grazie c'è un tizio qua sotto che sai che c'è il microfono l'ha staccato non lo so oh me felless proprio oh me felless oh me felless oh me felless oh god ti prego ti prego ok scusate mi sono un attimo emozionato appena sto pallone sono un coglione 5 cellulare nella tuta gold si io ti chiamerò whatsappelo che abbonamento scusa raga arriviamo a arriviamo a 20 condivisioni dai ci sono altre 10 condivisioni dai buone oh cazzo davide martenne ha scritto ti voglio veramente bene tosco grazie mille vado anche io bro se sei c2 fattelo dire sei carriato sono c1 infatti coglione pezzo di merda i compagni in duro sono sempre dei grupponi se non sei con un tuo amico specialmente ciccio siiii no dai ho capito raga ciccio non ci sta lavorando sta andando a lavorare gotham ha bisogno di me vado è stato 2 minuti oggi in live in totale però vabbè nello stesso oh bella manuele questo è stato a posto no fadè fallo col prime fadè fallo col prime su twitch a parte che risparmi ma poi mi arrivate più insomma se proprio di va su tiktok non conviene mi paghi 3 euro a me mi arriva 80 centesimi cioè raga a me mi arriva 80 centesimi due però non li abbonati tutti ma sto cappellino è proprio prime è della Lazio di noi stavo stemma la Lazio che ha vinto contro il Bayer vado su no abbiamo bisogno erbi dice c'ha scritto no ma sto dicendo proprio quello di tiktok frullatore ha scritto parte 3 ormai i bimbi in cantina sono dei topi enormi nel frattempo il tosco si su erbi dice c'ha scritto messaggi prioritaria kk io ti inondo su whatsapp cristian cimone ha scritto ah beh quello pure vero in caso mi abbonassi lo faresti vedere cosa eh ma sta lazione mamma mia porco ho conto con un porco cinese guarda non ho capito chi è il porco non davide martenne ha scritto domani fai live in teoria si ma non so se la faccio la sera o il pomeriggio in modo vede vi faccio sapere su instagram che sono abbastanza attivo lì ragazzi mi raccomando seguimi su tutti i social pezzi di merda ciao tosco ciao fanu benvenuto in live come stai ho tapposto nel caso mi abbonassi quindi lo usciresti eh ma non ho capito cosa devo uscire l'uverano ha scritto sto facendo cacca erbi dicezza scritto mi interessa ma ieri avete usato la tattica dell'immobile del Ciro mamma mia Ciro che c'è segnato sto rigore tutto bene te ma l'altra l'altro gli è staff è già pure San Valentino ne sono potuto vedere la partita poi ne sono visto la fine perché stavo a vincere 1 a 0 stavo un pazzito quando ho scoperto sta cosa e io la mia ragazza prima inizio di partita ha fatto su me vinciamo 1 a 0 queste vibe lei pensava tipo finisse in partita invece 1 a 0 quindi è una salta scherina quella che hanno tutti i ragazzi e non è uguale per tutti la mano get the game sono gran c'è più tre grande ma te ha 11 gg vuoi giocare a rocket id opera continua no grazie poi vabbè i bimbi sono dei drive ti sei lavato i capelli dall'ultima volta no vabbè non mi sono lavati vedi attraverso i miei per la gente famicizia questa cosa bellissima ti riferivo ai peni pubici ok che parata ha scritto adesso mia mamma è morta però sai Tyler secondo me tu mamma ti volevo bene il mio id è scrotopalle 69 69 frullatore ha scritto parte 4 ormai i bimbi sono diventati delle tartarughe ninja nel frattempo il tosco ma che devo usci o me fell se tanto scemo chi legge ha scritto ma se ho cane a una cane di chi ha il pane al latte allora ragazzi una domanda ma se ho cane un cane calcola la massa del sole quant'è la massa del sole scrivetelo nei commenti di alcimone ha scritto quindi è un sì ma cosa davide martenni ha scritto no ti dico no tranquillissimo vada la mia cosa è se c'è amazon prime ti puoi abbonare gratuitamente al mio canale di twitch sì più o meno c'hai capito eeeh le domande nale sono tipo avendo un integrale come come si calcola la massa del sole e me sto cagando c'ho quello di me bampava ah chi slo abbiamo preso nel culo nel culo davide martenni ha scritto e come se fa e devi collegare tramite il pc perché poi non penso da tre cose possa fare l'account con amazon prime a twitch ci stanno i video su youtube 10 porco dio che paura non ho battuto le mani non c'è credo non c'è credo la parata sto infame eh vabbè una me ne scappa è la prima della live pure poco sto facendo andrex amici ha scritto 210 alla terza kg è la massa del sole speravo che qualcuno non si vede proprio pubblici samento dio te rego sbaglia no ho me felles raga ho me felles erby dice ha scritto io investo su questi giovani talenti e se schivano la mia auto da lì che realizzo steve jobs frullatore ha scritto o me false o me felles o me felles no comunque volevo dire una cosa mocazione del follo e mi sono ricordato che vedevo chiedere scusa perchè comunque ho fatto la cavolata quindi vedevo chiedere scusa raga quindi perdonatemi spero che proprio perdonerete questa cosa che ho fatto oggi però veramente perdonatemi scusatemi cioè io spero comunque mi perdonate scusatemi tantissimo raga cioè vi do veramente perdono per quella cosa che ho fatto non dovevo proprio non so come mi è venuto proprio in mente non mi è passato per idea proprio cioè scusatemi scusatemi tantissimo perdonatemi scusatemi tantissimo raga scusatemi cioè veramente voglio bene però scusatemi ho fatto la cazzata sbobbabe non che mi dispiace no raga vi chiedo scusa veramente mi dispiace mi dispiace tantissimo 5 le tartarughe ninja in cantina hanno scoperto la cura del cancro nel frattempo il tosco omefellas frullatore ha scritto no non te l'ha letto omefellas ah ok omefellas no raga comunque vi dirò ancora scusa cioè perdonatemi veramente scusatemi tantissimo scusatemi veramente erby dice ha scritto non pensavo che fosse 10 matteo di prospero h big dip big dip è appena nato è 023 big dip io ti commentavo i video per sapere quando facevi la live eh frate me lo riesi qui su instagram e lo dico sempre quando ando in live su instagram se non ce l'avete installatevelo e fatemi un account anche mezzo fake non ci mettete foto almeno oppure sta il gruppo discord quella di solito lo dico ma oggi mi sono scordato effettivamente però guarda che infame va davide martenne ha scritto i bambini in cantina nel frattempo sono diventati ronaldo e messi il tosco intanto all me fellas all me fellas frullatore ha scritto ma di che non ti devi preoccupare in realtà non neanche il motivo però ok no ti chiedo scusa cabri comunque ho fatto la cazzata e vanno a messa le proprie colpe scusatemi raga scusatemi ovviamente scusatemi vai 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 calco se donate 3 riceverete 6 sul monopoli davide martenne ha scritto scusa di che ti chiedo scusa pure a te davide scusa tantissimo dai lo sapete già non me lo fate ripetere scusatemi raga scusate veramente tanto bella bella matti no non sei il primo che me lo dice si sono quella d'unc sono il fratello perso dei d'unc ok meno male mi stavo preoccupato guarda ok abbiamo 8 call raga non so se avete capito davide martenne ha scritto no eh lo so davide però ci sta io comunque vi chiedo nel dubbio pure scusa tra poco sta qua lei mi da dire su twitch raga che è messa a fine la batteria del pc non mi ha andato più il caricatore quindi infatti c'è sta nessuno c'è sta io e i fantasmi no non c'è credo si è mancurato proprio veramente davide martenne ha scritto no non puoi giocare matti chiocciola gabri era per il meme non c'è ragione era per il meme top 10 fake che nessuno poteva mai capire 2 a 1 gol del tosco ha scritto siiii ragazzi ragazzi mi riesce oggi sono andato a casa di Tosti mi ha detto che stava pensando di trasferirsi a Dubai comunque raga mancano mancano 86 iscritti siamo arrivati a 3000 quindi condividere questa live dobbiamo fare 86 follower dai raga entro questa live vuole arrivare a 3000 follower vi prego condividiamo condividiamo tutti condividiamo anche la nasa basta che qualcuno si iscriva bravi raga grazie mille Andrea per la condivisione bravo 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 che l'ha toccata come vedo il bambino in cantina poi mamma mia grazie mille ragazzi per la condivisione che dobbiamo cercare di fare 86 follower entro questa live per forza bella Martini condividi questa live dobbiamo fare 86 follower cosa ne pensi della situazione in Yemen non so che situazione ci sia quindi non so che dirti dunque omefellas nel dubbio hello terra grazie mille condivisione ma no rega condividete iscrivete fate qualcosa cioè non lo so mettete like alla live dobbiamo fare dobbiamo fare questa live a più persone possibile fa 86 follower entro alla fine live vi prego ciao scimo chi legge e ciao sono contento ti piace il mio canale ti sei scritto omefellas non dubbio che vuol dire è fuori ci sta Franci comunque alla fine è un orario per dire buongiorno grazie mille a tutti dobbiamo fare 86 follower mancano 86 follower ai 3000 vi prego vi prego speriamo di morire prima cheat non c'è niente con quello studio però non ce la dire lo volevo dire nooo è proprio per scoreggiare cosa ne pensi di chi ci chiama solo col cognome non pensando a quanto bello sia il nostro nome ebbè da fastidio da quasi fastidio a me Siri mi dice buongiorno frullatore ha scritto parte 7 i bimbi in cantina si sono laureati hanno un lavoro una famiglia nel frattempo il tosco omefellas luseran ha scritto che vuoi da me cosa vuoi da me la mattina chiamo Angela Dimitri Cacciola ha scritto solo con l'hashtag davanti legge yes che poi non è hashtag lo slash però se non lo sapevi adesso lo sai Herbie Dicez ha scritto hashtag Ketchum l'ha giocata l'ha giocata esplodi come tu le gemelle sl e sh scusami scusatemi raga fake 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 no che schifo raga mi interessava se di te schifosi porci maiali di merda quindi luseran ha scritto si dice ketchup o chechap ma su me si dice c'è la mamma mignotta però tutto può essere che rank sei raga che rank è bo omefellas omefellas portata a casa portata a casa portata a casa come hai fatto a indovinare raga scritto parte 8 i bimbi in cantina sono famosissimi hanno miliardi di soldi nel frattempo il tosco omei no raga non sono riuscito a fare un follower che schifo raga mancano ancora 86 follower di 3000 no raga ci dobbiamo arrivare in qualche modo hello there ma guarda martina che sta a condividere grande martina vai te lo tiro scemo chi legge con le mani ci sono arrivato chiamaci a vardini mo lo chiamo raga per forza oh no ma chi cazzo sta a condividere martina dimitri cacciola ha scritto in 1v1 che rank 6 non gioco in 1v1 erbicez ha scritto ma che sto è l'odier è l'odier è l'odier è quando condividono la live raga no l'ho visto il mio compagno io ho passata è l'odier mi fa dire perché è uno spawn continuo adesso mi piace tanto fake tocco di merda top 10 passaggi della mia vita franci il bro ha deciso oddio franci il bro ha preso le retini di questa di questa live raga dai raga spaventate pure dei like questa live cercano a 10.000 like che poi dice lo der cioè t h e r er r ok poi se c'è madriele poi devo fare meglio un po' devo fare meglio madonna raga quanto cazzo sta a condividere madonna martin con più di 10 persone quanti amici c'hai martin pensavo non essi amici invece incredibile nooo dunque a poco mi ha fatto leva questo cappello che figa ma il tuo sistema i capelli insomma cazzo c'è di ho erby dice c'ha scritto toschi sesso ovviamente ho capelli strani se per porco due mesi ecco alla vaffanculo dai godo ma si è fatto togo gol tizio ma che cazzo è successo frullatore ha scritto parte 9 i bimbi in cantina hanno superato Elon Musk nel frattempo il tosco o mei false o mei false erby vicezza ha scritto toschi cosa ne pensi di Alan Walker grande musicista erby vicezza ha scritto toschi cosa ne pensi di sciolgo le trecce ai cavalli corrono guarda la canzone mi piace non so di che parla perché non me lo ricordo però il ritmo mi piace godo hello there no frate adriale continuiamo a passarla così erby vicezza ha scritto toschi ripeto che sei il prescento perché questa canzone si spammava a Borghemmada siiii 3-1 50 condivisioni da me infatti 101 ragazzi tutto torniamo a 104 che stavano frullatore ha scritto parte 10 è finita la storia degli binghi in cantina ma nel frattempo il tosco hello there hello there attenzione ancora hello there ma fanculo devo mantenere premuto R1 erby vicezza scritto se vedi bene hai una cicatrice sul ginocchio quello è il segno di Borghemmada l'user ha scritto 104 condivisioni no 102 raga vedo 106 nooo ne ho messo troppe raga troppe condivisioni abbiamo saltato il 104 gg grazie a tutti per i like per le condivisioni intanto continuiamo a giocare 3 a 2 e adesso si è la differenza tra i uomini e i ragazzini non succede ma se succede succede la catastro erby vicezza scritto condividimi le mele zitto banani no non c'è credo si l'user ha scritto condivisioni nooo con l'altro pulito cazzo è volato erby vicezza scritto da sorriso nichè sei passato a sorriso turbante frullatore ha scritto parte 11 era un sogno dei bimbi in cantina ma nel frattempo il tosco omei fals omei fals dai affanculo ragazzi c'è credo sta a vincere 3 a 1 ci hanno recuperato ci hanno superato poi c'è un cannone recuperato mamma meno male questo è storto come la torre di pisa cazzo cazzo let's go ski frullatore ha scritto ho veramente un bel sogno si so fatti i bimbi si davvero c'è una lettura immaginato che si andano via della cantina incredibile dove sta modalità tempo illimitato no knockout vediamo un attimo questa modalità knockout leutio mio fratello ha scritto ma pknn mi legge perché te odia ci siamo raga non so che modalità sia sinceramente però beh ma che cazzo ha messo non è manco competitiva l'userano ha scritto viva la fica che cazzo moneta è ma non è ma che che mi ha messo non è moneta quello che vaffanculo va coglione no ma che mi ha messo e c'è che non è un attimo è scritto parte 12 nasce il figlio del tosco e per sbaglio va in cantina e spara a un bimbo della cantina godo e allora poi ti trasformo qui uno dei bambini della cantina sono comunista frullatore ha scritto nel frattempo il tosco ma quanto è una ragazzo mia farfalla vabbè una moneta ok ma non voglio essere più ragazzi mille martino dovevi io vado e ricorda che non è il successo a portarti in alto ma il fallimento che ti cresce si lavora e si produce per la figa no attraversa linea braccio che muscoloso braccio muscoloso braccio muscoloso scrive martina che sgaro come fellas leuti mio fratello ha scritto let's go ski let's go ski martina de dominici sa scritto ti saluto vado a studiare a sto ora vabbè buono studio comunque regà wow ma che è sta roba leuti mio fratello ha scritto di lesgo ski let's go ski Oddio regà ma che figa d'è sta roba Ma che è oh Go tu coglioni Omefelles No Io non so ancora i suoi tasti di con L'eutio mio fratello ha scritto Omefelles Come si fa no Bastardo Ma come si fa a grabare le persone Regà dal coso dal joystick Non c'è stato il tasto L'userna ha scritto Tio Ma quello sta laggiù Ma che cazzo sta a fare laggiù Godo coglione A terra Omefelles No non mi va a me Vaffanculo sta moledà Mesta sul cazzo Non riesco a fare una sega Cambiamo Che è quell'altro moledà Frenzi Vamo regà Infatti ho visto Aspetta Magari un video Dei shorts è andato Ma che cazzo è Si arrabbia con il bimbo della cantina E gli spara con lo spaz Oddio regà Ma è sta Oddio Nel frattempo il tosco Omefelles Omefelles L'eutio mio fratello ha scritto A che ora fai le live Domani non lo so regà C'è stato l'attacco Lascio sapere su Instagram Quale? Quale è il problema Vabbè Oh no regà Non riesco a gestirlo Il volo Grazie mille Grazie mille Sharingan Antigringe Vedete il follo Si regà Ma sono cagato sotto Però cioè L'userana ha scritto Mi devo rioperare Mi devo rioperare purtroppo Ma cosa Deglio l'opera Sharingan Ferma Cringe ha scritto Che rank 6 Champion 1 Ma è il sbosto Fa questa maledà Un po' strana Tu esulti tantissimo Exedo Game Ha scritto Che anno 6 Eh 2005 Luserana ha scritto Alla caviglia No Pure te alla caviglia Porca mignota Sharingan Non so colpi il pallone Regà Cringe ha scritto Si è strana Regà ci sto capendo Una sega Su sta Sta maledità Veramente Cioè Non No Stai sulla luna Stai giocando sulla luna Leotiu Mio fratello Ha scritto Denjik Buonasera Chi cazzo è Denjik Ma vaffanculo Dai Oh ma non è È ingiocabile Ah Godo Muori Oh questo poi in chat Sta rompendo i coglioni Bel tiro Che parata Ma stai zitto Ragazzino di merda Godo le ragazzini a tutti No se no 6,9 Mi fa vedere Frullatore ha scritto Parte 15 Il figlio del tosco Diventa mafioso E inizia a uccidere Tutti i bimbi Della cantina C'è una fantasia Zii C'è Lei e mio fratello Ha scritto Quello che ha fatto La cento tiri Ha sbagliato A leggere il bot Frullatore ha scritto Perché sono vecchi No raga 7k Mi stai giustato Mi fa vedere 7k A me Mi sei buggato Ah sì infatti Ok è scritto male Grazie mille a tutti Raga per 7k like Io ringrazio Tutti i padati Oh me fellas Oh me fellas Amici Oddio Ora mi vola Niente Oddio Mi sono ingroppato Tutto Mi sono ingroppato Eh Mi sa che Leo Tu mio fratello Ha scritto Oh my fellas Oh my falls Oh che bella La gravità normale Cazzo Ora silenzio Ora silenzio Opera al tosco Tiè Chi ve le fa Queste cose Chi ve le fa Ditemelo Pezzi di me Bellissimo Eeeh Fammi una trevi tre Dai Una trevi tre Tranquilla Leutio mio fratello Ha scritto Ora cago Anzi Anzi Vi dico Canestro Fammi una bella Partia di canestro Luseran ha scritto Non ho banno Perché da un'ora Sto bimbi No Non ho bannarsi Basta scherzare Cioè Ma l'hai silenziato Ma no Ma che cazzo Luseran ha scritto Non ho silenziato Non sono scomparsi Sui messaggi Ah no Ah no 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 Ma l'ha scritto ora Quindi non è impossibile Si va a t'autogolle Cioè Non mi cazzo De pare Allora Non mi vado Devo là Luseran ha scritto A o basta Con sti bimbi Ma no Mi viene dividerata Sto storiella Perché le smette Boom Comunque ragazzi Il basket Se o me Sottovalutato Cazzo Se l'avessi lanciato Un po' più in alto Aveva fatto Un bel World Luseran ha scritto Ha segnato Lukaku 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 Così Così me lo dice Comunque non ho capito Chi ha segnato Signor Francibro Prullatore ha scritto E' un spoiler eh Vaffanculo Sto palo Ho preso Poco un bocca al palo Raga Gol preso Vuoi mettere una cosa Raga su youtube Aspettate un secondo Non so Culesone Una cosa Perché se E' spopolato Luseran ha scritto Ha segnato Lukaku 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 Vabbè Palo Diremo palo Ovviamente Neanche Pinch Lukaku 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 No son volato Raga Oh my fellas Oh my fellas Luseran ha scritto Ha segnato Lukaku 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 Che lupishu Non ho capito Questa Oh ma il mio compagno Dio fa la neve E' peggio degli avversari Cioè Non mi fa fallazione Mi viene a rompere i coglioni Fammi giocare Cristo Dio Bambino di merda Ecco Bravo Bravo Bambino autista Autista Cazzina la condivisione È dommaggio No Non c'è credo Non c'è credo Sì Vabbè Basta Basta Io ora quitto Perché c'è Cristo Dio Ma non ho levata Ma so veramente Di G1 So Ok Mi sono distrutto colpato Bravo Bravo coglione Vatta un affanculo Va Frullatore ha scritto Parte 18 Il figlio del tosco È ricercato Da tutta l'Europa Nel frattempo Il tosco O mei false Godo Entra Benzema La mette così Senza senso Il tosco Let's go Ski Hello there Godo Guarda Il mio compagnolo Cioè Mi scrive pure Che parata Davo ma sto coglione Mi aveva messaggi Sul cazzo Madonna bella Mi davo il cazzo Il mio compagno Bel tiro Bel tiro Bambino Di K Mi so Mi so Mi so Mi so Mi sto un po' Da girare Noo lo volevo Godo scemo Noo La devi tocca Una La devi sempre tocca No ma Mi fai un cazzo Non ho lasciato Golla Porco dio Quanto è vero e vero Il mio compagno comfy Ho Mi so L'Useran ha scritto Cosa ci fanno un nero più un bianco più un nero L'oreo Basta tranquillo bro Madonna questo Ma veramente ragazzi Rocket League Questa è l'ultima volta che ci gioco Ma non ti fanno i coglioni Trovano la gente che deve insultare Ma te stai zitto Sarai bronzo 2 Sarai Bambino di merda L'Useran ha scritto Bravo Ma giù Mi fanno proprio un cazzato Mi fanno Cristo Dio Eh che parata Le abbiamo proprio preso il pallone Ma vaffanculo va E' state cazzo Godo Ce l'hanno segnavo Godo Che parata Che parata Che parata Che parata Che parata Bella Dani Scusa per Sto sfogo Però veramente C'è Una certa Meno del culo Vuole pure Famicizia con me Ma che cazzo Ma che cazzo Vuoi Cioè Ma gioca da solo Ma guarda Che vuole fare Uno di uno Ma via il cazzo Via Non è capace a fare niente Io Cristo Frullatore ha scritto Parte 19 Il figlio del tosco Viene preso E viene arrestato Per 500 anni Sì Io dai Ho capito Cioè No Ho sbagliato Frullatore ha scritto Nel frattempo Il tosco O mei False Oh cazzo Tra i V3 competitivi Ho messo LOL Vabbè Eh regà Ma è un po' così Oggi Non lo so No Ad solito io non sbrocco così Però ovviamente Non scrivo un chat E rompere i coglioni Poi inizia tutto a quest'ora Ma Nel tuo di coglioni Cioè Ma non giocare Cioè Ha giocato tutto il tempo Andando sempre sul pallone Rompendo i coglioni E mi ha scritto Poi un bel tiro all'inizio Quindi poi inizia Spammare pure E bel tiro Che parata Se stavo rompendo i coglioni E ha scritto Poi un mio dio Dopo io ho risposto Nel cazzo vuoi Cioè Tu pizze ti smonto Porco dio Te rimando a Porco dio il lobby Però il lobby della vita Le mando a prendere tu madre Porco zio Cioè Ne parla di Ugania E domagico Che dopo la sbroccata Fa Hello there Luzeren ha scritto Ho le bestemmie infinite Eh no Non me cazzo Giuro Mi ha detto Una iena Cazzo 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 Lo avevo condiviso Mille volte Non ne ha neanche Scritto Bastardo Cazzo Cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Vabbè Regalitato Stacco Attivo la live Su OBS Tanto non la posso più Vedere Si Cazzo Cazzo